Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo aggiornamento sulle prossime puntate di Terra Amara, con particolare attenzione agli episodi previsti per il 15 e il 16 settembre. L'atmosfera è impregnata dalla calda fragranza della cucina, mentre Uzum condivide una notizia che potrebbe sconvolgere gli equilibri familiari. Gaffur, il capofamiglia, ha da poco ricevuto una misteriosa lettera dall'ufficio ricerca lavoro. Questo avvenimento sta per mettere in moto una serie di eventi che promettono di agitare la vita di tutti i personaggi. Quando Sanie fa ritorno a casa, la sua curiosità è irresistibile. Nonostante Gaffur cerchi inizialmente di eludere la questione, la determinazione di Sanie è inarrestabile. La donna inizia a cercare ovunque, determinata a scoprire il contenuto segreto di quella lettera che ha portato tensioni nell'aria familiare. Alla fine, riesce a trovarla, nascosta addirittura su Gaffur stesso, e con occhi pieni di speranza inizia a leggere il suo contenuto. Quello che scopre cambierà profondamente la loro vita. La richiesta di impiego di Gaffur in Germania è stata accettata, e presto riceveranno informazioni sulla data del suo imminente viaggio. La reazione di Sanie a questa notizia è di sorpresa e preoccupazione. Sorge la questione di perché Gaffur non le abbia mai parlato di questa possibilità, lasciandola sola a prendersi cura della loro amata figlia, Uzum. Gaffur, con una miscela di emozioni, spiega che stava per rivelarle tutto e che mai avrebbe avuto il coraggio di partire senza di lei. Esprime il desiderio che Sanie lo accompagni in Germania, ma sorge una seria preoccupazione per il futuro di Uzum. Tuttavia, Sanie sembra scettica riguardo a questa prospettiva e avverte Gaffur che, se decidesse di recarsi in Germania, potrebbe non avere più modo di rivederla, né di vedere Uzum. Intanto, il personaggio di Mujgan, alle prese con le proprie sfide e i suoi sentimenti, si confronta con Beyice, sua zia. Mujgan è disperata e cerca una nuova opportunità lavorativa, desiderando portare con sé il suo prezioso figlio e abbandonare il suo ambiente attuale. Beyice, più razionale, la avverte contro decisioni affrettate che potrebbero compromettere il suo futuro. Tuttavia, Mujgan è irremovibile nella sua decisione di abbandonare quel luogo con suo figlio, temendo che Yilmaz possa fuggire con Zuleya. Beyice tenta di rassicurarla, assicurandole che suo figlio non le verrà mai portato via. Beyice le assicura che Demir non permetterà mai una cosa del genere, e la esorta a dimenticare Zuleya per sempre. La esorta inoltre ad essere saggia e ad evitare di scontentare Fekeli, un personaggio chiave nella trama. Le due donne si trovano in disaccordo, e la tensione si fa sentire. Demir si ritrova coinvolto in una riunione con il capo della polizia, una riunione che potrebbe avere un impatto significativo sulla trama. Il suo stato emotivo è fortemente influenzato dalla frustrazione dovuta al fatto che l'assassino di sua madre sia ancora in libertà, a ben 40 giorni dall'omicidio di quest'ultima. Demir non riesce a nascondere la sua impazienza e il suo desiderio di giustizia. Il capo della polizia cerca di spiegare a Demir che le forze dell'ordine stanno impiegando tutti i mezzi a loro disposizione per condurre indagini approfondite e portare l'assassino di sua madre davanti alla giustizia. Tuttavia, emerge un problema. Demir ha offerto una ricompensa di un milione di lire per chiunque dia informazioni utili a risolvere il caso. Questo atto impulsivo e generoso potrebbe avere conseguenze inaspettate sulla situazione. Il capo della polizia è preoccupato che una tale somma possa attirare l'attenzione indesiderata e rendere ancora più complesse le indagini. Nel frattempo, Yilmaz e Zuleya sono alle prese con le conseguenze delle loro azioni. Yilmaz cerca di rassicurare Zuleya, sottolineando che non è arrabbiato con lei per aver protetto suo figlio Kerem dalle azioni di Mujgan. Comprende che Zuleya non poteva prevedere le azioni di Mujgan e apprezza il fatto che abbia agito in buona fede per proteggere il bambino. La trama di Terra Amara è sempre più avvincente, con i personaggi principali alle prese con emozioni forti e decisioni che potrebbero cambiare il corso degli eventi. La frustrazione di Demir nel trovare l'assassino di sua madre è palpabile, ma il suo gesto impulsivo potrebbe complicare ulteriormente la situazione. Nel frattempo, Yilmaz e Zuleya cercano di gestire le conseguenze delle loro azioni passate. Continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti sulla trama di Terra Amara, mentre esploriamo le implicazioni di queste scelte per i personaggi e per la storia nel suo complesso. Restate sintonizzati! Rivela a Zuleya che ha portato Mujgan a casa sua, permettendole di stare con il loro bambino Kerem fino a quando non saranno pronti a partire. Nonostante la situazione complicata e l'instabilità emotiva di Mujgan, Yilmaz è determinato a non fare del male a nessuno, compresa la madre del suo bambino. La sua priorità principale è garantirsi una vita felice e sicura con Zuleya e i loro figli, lontano da ogni minaccia o d'ostacolo. Zuleya, a sua volta, condivide un importante segreto con Yilmaz. Rivelando la loro strategia per evitare problemi futuri, Zuleya svela che hanno pianificato di fuggire durante la cerimonia funebre di Unkar. Questo piano permetterà loro di scomparire senza destare sospetti e di iniziare una nuova vita lontano da tutti gli intrighi e le tensioni che li circondano. La trama di Terra Amara continua a sorprenderci con colpi di scena e decisioni importanti da parte dei suoi personaggi principali. Yilmaz e Zuleya sono determinati a proteggere la loro famiglia e a vivere una vita felice insieme, ma dovranno affrontare numerosi ostacoli. Zuleya tuttavia sente pietà per Demir che rimarrebbe senza figli e ha portato Sevda a casa sua per non lasciarlo solo. Inoltre, Yilmaz confida a Zuleya il suo dolore per la prospettiva di separarsi da Fekeli, il quale rappresenta per lui un padre adottivo e un punto di riferimento importante. Nutre la speranza che un giorno Fekeli possa perdonarlo e accettare di vivere con loro, un segno del suo desiderio di riconciliazione e di una nuova vita. Nel frattempo, Demir si trova al cospetto della tomba di sua madre, svelando la profonda mancanza che prova per lei. La madre era per lui una fonte inesauribile di forza e coraggio, e senza di lei si sente vuoto e solo. Le sue confessioni sincere e le lacrime versate mostrano un lato vulnerabile di Demir, che fino ad ora aveva mantenuto nascosto dietro una facciata di autorità e potere. Mujgan, decisa a non essere separata dal suo amato figlio, sta pianificando un trasferimento in una piccola località, dove spera di poter scappare con il bambino. Nel frattempo, Yilmaz e Zulea stanno custodendo gelosamente i loro segreti piani di fuga e hanno deciso di metterli in atto proprio durante la cerimonia in onore della defunta Unkar. A Villa Yaman, c'è un misterioso enigma riguardo alla scomparsa di Razit, e nemmeno la sua amata Fadik è a conoscenza del suo paradero. Tuttavia, presto Razit svelerà a Fadik il motivo della sua assenza, è stato licenziato dal suo lavoro il giorno precedente. La causa di questa inattesa decisione è un anello che Razit aveva nascosto nella serra, pianificando di farne una sorpresa a Fadik. Tuttavia, l'anello viene trovato da Azize, che lo indossa credendo fosse un dono destinato a lei. Razit, disperato nel tentativo di recuperare l'anello, viene invece accusato di furto da Sevda e successivamente licenziato dal suo lavoro. Sanie e Fadik cercano disperatamente di spiegare l'accaduto a Demir e Zuleyha, ma la situazione sembra sfuggire al loro controllo. Nel frattempo, gli Ilmaz e Zuleyha stanno pianificando la loro fuga durante la cerimonia in onore di Unaker. Nel corso della cerimonia, Zuleyha versa un potente sonnifero nella bevanda destinata a tutti gli ospiti. Durante la notte, mentre tutti sono profondamente addormentati sotto l'effetto del sonnifero, gli Ilmaz e Zuleyha cercano di fuggire con i bambini, nella speranza di iniziare una nuova vita lontano da Villa Yaman e da tutte le tensioni che li circondano. Tuttavia, nel corso della loro fuga notturna, vengono intercettati dalle forze dell'ordine. Il commissario informa Demir, il quale si reca immediatamente alla stazione di polizia per recuperare i suoi figli, Adnan e Leila. Nel frattempo, Zuleyha viene sollecitata da Demir a fare ritorno a casa con lui. Alla stazione di polizia, gli Ilmaz si ritrova faccia a faccia con suo padre, Fecheli, il quale è furioso con lui per aver portato via il nipote Kerem senza comunicargli nulla. Fecheli espone chiaramente il fatto che non ritiene più gli Ilmaz come suo figlio, chiudendo così definitivamente questo capitolo di Terra Amara. Cosa ne pensate di questi sviluppi? Condividete i vostri pensieri e le vostre opinioni nei commenti. Se avete apprezzato il video, vi invitiamo a lasciare un mi piace e ad iscrivervi al canale per non perdere le prossime anticipazioni di Terra Amara. Ci rivediamo nel prossimo video. Ciao!